Benvenuti al Gran Premio degli Stati Uniti a Austin, Texas. Questo tracciato sta rapidamente diventando uno dei preferiti dagli appassionati grazie alle molte opportunità di sorpasso. Ma raggiungiamo la pista. Ed ecco le posizioni dei piloti sulla griglia di partenza. Non avevi fretta quando affronti la prima curva. Vogliamo conservare una buona posizione per il resto della gara. Buono furtome. Grazie a tutti. 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 è appena passata in prima posizione la Ferrari sono pronti per un pin stop un pilota sta rientrando ai box 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 un pilota sta rientrando ai box